Easy, leggiamo facile, leggiamo tutti. Benvenuti alla Cervetto. Oggi vogliamo presentarvi Easy, la nuova sezione di libri che consente l'accessibilità alla lettura per tutti. Questi sono i libri tattili, dedicati ai più piccoli. Si possono toccare, manipolare e ascoltare, oltre che guardare. Sono fruibili anche da ragazzi con deficit cognitivi o affetti da ipovisione. In questa sezione troviamo gli inbook, libri costruiti attraverso un adattamento e una traduzione in simboli del testo scritto. Per leggerli viene utilizzata la tecnica del modeling, che consiste nell'indicare col dito il simbolo corrispondente alla parola, senza interferire nella vivacità del racconto. I Silent Book sono bellissimi albi illustrati, privi di testo, che stimolano la creatività ed invitano a dare un'interpretazione personale del racconto. Passiamo poi ai libri a grandi caratteri. Questo tipo di libri si pone l'obiettivo di facilitare la lettura per persone anziane, presbiti o ipovedenti. Sono caratterizzati da lettere grandi, carta opaca e margini studiati. Proseguiamo con i libri ad alta leggibilità. Facilitano la lettura per chi ha specifiche difficoltà di apprendimento, come la dislessia. Oltre all'utilizzo di font particolari e spazio maggiore fra le lettere si pone molta attenzione al lessico per rendere le storie più comprensibili. Infine gli audiolibri. La versione audio di un libro letto a voce alta e registrato per essere ascoltato in qualsiasi momento. Vi aspettiamo in biblioteca dall'8 al 12 maggio per conoscere le nostre racconte. Per essere sempre aggiornati sulle nostre iniziative seguiteci sulla pagina facebook e sul portale delle biblioteche di Genova.